Oh, non pensavo che sarebbe piaciuto a così tanti il video sulla pasta di Decathlon Perciò, dato che tutti quanti mi hanno richiesto di fare un nuovo video sulla pasta alla bolognese Sono andato a prenderla, perché ho visto che ha avuto parecchio successo In molti, proprio da italiani, cavolo, per orgoglio, volevano sapere quanto facesse schifo, non so E sono parecchio curioso anche io, perciò non vedo l'ora di assaggiarla Tra l'altro, come al solito, che ore sono? Sono le 5 meno 10, non ho pranzato, quindi questo sarà il mio pranzo, quasi cena, non lo so, merenda del pomeriggio Quindi dobbiamo sbrigarci perché ho una fame pazzesca E ho trovato anche questi piatti qua, questi pasti Questa volta non sono dell'Aptonia, non ho ancora capito come si pronunci Ma di Decathlon for Clats E sono, penso, più colazione, diciamo Infatti questo qua è muesli al cioccolato C'erano altri piatti, ho preso quello sempre con le chilocalorie un po' più alte perché mi serve energia per stare in giro Anche se non andiamo a provare oggi, sappiate che ci sono anche questi E mi vedrete mangiarlo in un prossimo video, ma proprio a breve Però oggi, pasta alla bolognese Ah, mi sono dimenticato, capace che poi mi sento male Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Allora, andiamo a vedere come si prepara questo pasto Questa pasta alla bolognese È un pasto disidratato, perciò per mangiarlo va aggiunta nella busta dell'acqua calda Acqua bollente Quindi praticamente non dovremo far altro che riscaldare un po' d'acqua in un pentolino E poi buttarla qui dentro, non dovremo sporcare nulla Mangeremo direttamente dalla busta Questi pasti sono progettati per le nostre uscite, per stare fuori, per trekking, escursioni, eccetera Perciò sono molto compatti e devono essere anche leggeri In uno zaino non occupano veramente niente Pesa solamente 120 grammi Poi è ovvio che una volta reidratato, in base a quant'acqua andremo a mettere, peserà di più Ad esempio qua dice 390 grammi Poi ovviamente dipende I valori nutrizionali Qua c'è scritto che sono 480 kilocalorie su 120 grammi Si prepara in 5 minuti Tra l'altro c'è il 16% di carne Non ci sono conservanti, quindi è abbastanza salutare Come vi ho detto già prima, si mette dell'acqua bollente Si riempie fino alla linea che c'è scritta qui In questo caso è 6 Quindi ci sono delle linee dentro Bisogna rispettare la linea scritta Si mescola, si chiude e si aspetta per circa 5 minuti Vi svelo un segreto però Non lo dite a nessuno L'altra volta non ho fatto bollire l'acqua perché si era scaricata la bomboletta Però non mi andava di dirlo nell'altro video Questa volta non vi preoccupate, ne ho portato un'altra Non so se sembra anche a voi ma sta carne non pare molto invitante Sembrano dei pellet, mangime per cavalli Oppure quelli per le stufe da bruciare Insomma non sembra chissà che cosa Però andiamola ad aprire e vediamo com'è all'interno Perché poi alla fine non dobbiamo mangiarci la foto Questo lo appoggio per terra Poi lo raccolgo Ecco qua la pasta Madonna che profumo Che è sta roba? Che cos'è? Oh mio dio Avete visto? È esploso Penso sia condimento Sugo disidratato Probabile Sida di pomodoro Ok quello è sugo La carne sarà questa roba un po' più scura qua Questa Ma vabbè Come al solito disidratato non sembra molto invitante Quindi prepariamolo Prepariamo il fornelletto Usiamo la bombola più grande Mettiamo anche la solita carta stagnola Così si riscalda prima E voilà Aspettiamo che l'acqua Inizia a bollire Qua è abbastanza stabile Perfetto Ah questa volta mi sono pure ricordato La posata Le posate Userò il mitico Spork Che mi regalò qualche tempo fa Andrea Della Prometheus Quindi non devo farmi la forchettina di legno Beh mi sa che sta bollendo Direi che è abbastanza calda Ok Così direi che può andare Quindi Travasiamola nella busta Bisogna fare attenzione alle linee Devo arrivare alla 6 Perfetto Ci sono Mi è avanzato un po' d'acqua però non fa niente Ora mescolo E aspettiamo sti 5 minuti Sono passati 5 minuti Quindi Vediamo Com'è la pasta Ah Beh 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 È cresciuta Sembra anche morbida Vediamo Con La forchetta Beh si 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 Non ha assorbito però tutta l'acqua Eppure l'ho messa al 6 Dove Sulla linea Che c'era scritta dietro Vabbè Significa che me la mangerò con un po' di sughetta Non fa niente Non è un problema Sembra anche Pronta Non sento Rube un po' più dure Quindi Siccome sto crepando di fame Aiuto Devo mangiarla per forza Subito Ora Cibo Finalmente si mangia Questa tra l'altro Ha un aspetto Molto più invitante Di quella dell'altra volta Quindi sono contentissimo Allora Assaggiamo È venuta Molto succosa Molto Sugosa Brodosa Non so come definirlo Perché non ha assorbito Proprio tutta l'acqua Però è buona Un altro assaggio Un attimo Anzi Fatemi prendere La carne anche Finalmente Con questo piatto Si sente la carne C'è una differenza Tra la pasta E la carne Hanno due sapori Diversi L'altra volta Va tutto di curry Cioè Ok Al curry Ok Però Troppo Questa invece Ha una netta distinzione Devo dire che Mi piace di più Mi piace molto di più Ho sentito una cosa Ci sono anche Le verdure Verdure Insomma Condimenti Tipo cipolle Roba del genere Fecola Fecola di patate Roba così Però Si sentono le cipolle Possibile Si sentono le cipolle Quindi Ci sono davvero Si sentono Eccola qua Si Si sentono E ci sono veramente Le vedo Non è per niente male Rispetto a quello D'altra volta Direi Almeno Dieci volte meglio Ci sta Ci sta Molto più buona Avevo qualche dubbio Perché comunque Sapete La bolognese Un piatto italiano Pasta La bolognese Anzi Pasta con il sugo La bolognese Perché qualcuno Poi Se la prende Qua sta scritto così Pasta la bolognese Ovviamente Mangiarlo Che ne so Fatto in casa Dalla nonna Dalla mamma Dalla moglie E chi vi pare È diverso Però Siamo sempre Nei boschi Siamo sempre In giro Se non vogliamo Sporcare Dobbiamo muoverci Anche Rove così Dobbiamo portarci Poca roba Ci sta È buono Mi piace Poi 480 Chilocalorie Quindi È energia Bello succoso Ci stava proprio Finalmente Stavo crepando di fame Fino all'ultima goccia di sugo Finita Allora Allora Devo dire Che questa volta Mi ha soddisfatto Molto di più Quindi Se l'altra volta Vi ho detto Bah Ve la consiglio Alla fine Non fa schifo È commestibile Si può mangiare Stiamo fuori Non dobbiamo sporcare niente Quindi è comoda Blah 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 È possibile Mangiarla tranquillamente Questa volta Ve la consiglio Molto di più Mi è piaciuta Non ha conservanti È abbastanza energetica Veloce da preparare Ripeto Non si sporca È Una cosa che va provata Se serve Siamo in giro E cose varie Ce l'abbiamo E Non ci vuole niente Proprio a farla Tra l'altro Non l'ho pagata 5 euro Come l'altra volta 4,90 4,99 Come l'altra volta Non so perché Era in offerta L'ho pagata 3,99 Sì 3,99 Quindi comunque Ho risparmiato 1 euro E ci sta tutto Nel senso che È più buona dell'altra volta E l'ho pure pagata meno Quindi Assolutamente consigliata Non so se La troverete allo stesso prezzo Forse era un'offerta Boh Non so Però Ci sta Poi Scadono pure tardi 2020 Quindi C'ho un anno per mangiarmela Ma Uno la va a comprare Poi si presuppone Che Ce l'abbia Per la prossima uscita Quindi non è che Ve le tenete Per troppo tempo Si potrebbe fare Come cibo di scorta D'emergenza Però Un anno Diciamo che tiene Poi non più Qui dietro avete Tutti Gli ingredienti In italiano Anche Cercatevi la lingua E niente Mi è piaciuta Ve la consiglio Ve la consiglio Se uscite State in giro Avete bisogno di Roba del genere Pasta alla Bolognese Della Aptonia Aptonia Madonna Non so come si pronunci Di Decathlon Buona Bene Spero che questo video vi sia piaciuto Che vi sia stato utile E che sia stato di intrattenimento Mi avete chiesto in tantissimi L'altra volta Con il video precedente Di fare la recensione Di questo pasto qui Quindi Dovrebbe esservi piaciuto Lo spero E noi Come al solito Ci vediamo con il prossimo video Iscrivetevi al canale Se non l'avete fatto Venitemi a seguire Anche su Instagram E niente Mi sa che ho già detto Che ci vediamo con il prossimo video Quindi ciao